Siamo qua in il standard di Nicaragua, come possiamo dire in Nicaragua, come possiamo parlare di turismo in Nicaragua se l'anno scorso 400 persone sono morti per colpa della dittatura, come può irresponsabilmente parlare di turismo quando in Nicaragua sono prigionieri politici solo per alzare questa bandiera, come può parlare di turismo in Nicaragua quando la nostra gente, la nostra ragazza, abbiamo più di 40 mila ragazzi exiliati in Costa Rica, più di mille e mille persone che sono fuori del paese per colpa di Daniel Ortega e Rosario Murillo, due dictatori, come è possibile il governo italiano, come può promuovere un turismo e diamo a Italia che non si fanno con questa cosa loro lo saono lo che sta succedendo in Nicaragua, saono che cosa sta succedendo in Venezuela per che motivo deve uno vedere venire a qua una fiera del turismo quando nostri ragazzi sono 400 persone in meno di due mesi del 2018 murieron ragazzi per sacare questa bandiera perché a qua è bello stare in la democracia perché io posso parlare e stare denunciando che in Nicaragua non c'è niente di normale e per quello che anche in responsabile farò una immagine del Nicaragua che non esiste adesso, Nicaragua è bellissima e tanto nera come la sua gente e spero che voi possano visitarla ma in un lugar dove saia democracia, libertà e possiamo e spero che i am a los nicaragüenses andare con il orgullo di questa bandiera e dire siamo nicaragüenses libri in una patria soberana Nicaragua sarà libre, fuera da dictadura